In effetti noi, tutti voi, siete resi consapevoli che il tempo, il clima non sta cambiando, è già cambiato. Quindi non possiamo noi pensare a qualcosa che migliorerà ma che peggiorerà. D'altra parte abbiamo anche questo dovere civile nei confronti dei nostri abitanti delle città o comunque dei consumatori di dare a loro non solo un vino sano ma anche un ambiente sano. Non abbiamo tante strade. Da un lato abbiamo quella che viene definita la viticoltura di precisione attraverso il cui anche Noto Aria qui è un esperto in Spagna per poter risparmiare sulle risorse, quindi risparmiare sugli antibalacitari, risparmiare sull'acqua, risparmiare sulle concevazioni, cioè cercare di avere una viticoltura più sostenibile dal punto di vista degli input energetici. Però questo non è sufficiente. Se mi permite una parola, per a me è un gran honor tradurre al professor Scienza. Non è facile tradurre la scienza. Todo il mondo sape che Scienza in italiano significa scienza e è un gran rappresentante di suo appellino, cioè tradurre non è facile. È un placer perché è stato il mio director e coordinatore di l'imitrisi doctoral durante 5 anni in Italia. Io credo che è un gran referente in la viticoltura mondiale, cioè che per a me è un gran placer. Grazie, grazie, professore. Lo che ha comentato, io credo che si ha entendito abbastanza bene, ha detto che il clima sta cambiando, sta empeorando, ha detto, e questo lo abbiamo che raffrezzare. E, per altra parte, abbiamo il gran reto di non solo produire un vino lo più respetuoso possibile con il entorno, ma anche mantenere il entorno, mantenere il territorio lo più sostenibile e con meno impatto ambientale. E per questo, diciamo, propone due strategie, una è la viticoltura di precisione, ridurre i input, essere più efficace nella toma di decisioni e l'altra è la che va a commentare ora. Ecco, naturalmente questo non è sufficiente, abbiamo bisogno anche di avere delle varietà tolleranti. Questo lo facciamo adesso con tecniche tradizionali. Lo sviluppo sarà quello di avere queste tolleranze, diciamo così, orizzontali, in cui abbiamo concentrato in un individuo molte fonti di resistenza, ma il grande lavoro su queste cose qui è quello di fare tanti vitigni locali. Cioè non possiamo utilizzare solo Sauvignon, Cabernet o Chardonnay o Pinot in futuro, ma dobbiamo fare in modo che tutte le regioni dell'Europa abbiano le loro varietà locali. Non possiamo ridurre la biodiversità e la variabilità. Ma a parte questo, che penso che tutti stanno lavorando... La altra strategia è creare varietà resistenti o toleranti, soprattutto a le varietà o a gli altri estressi e biotici. Il piensa che in questa strategia è la creazione di queste nuove varietà, però che non solo hanno che essere dirigiti a la creazione di varietà resistenti a partir di varietà, come le varietà internationali, come il Cabernet, Chardonnay, eccetera, eccetera, ma che anche abbiamo che pensare nelle varietà locali, nelle varietà regionali, che possono essere anche utilizzate per la creazione di nuove varietà resistenti a partir di queste che già abbiamo nelle diverse regioni vitivinicoliche di tutta Europa. Ecco, lo sviluppo delle tecniche innovative, quelle del Genome Editing e della CisGeneri, certamente sono molto promettenti. Anche la Comunità Europea, che in questo momento in un certo senso rallenta di molto lo sviluppo di queste tecniche, perché omologa il cisgenico al transgenico, supererà questa fase, però non possiamo sperare di avere delle varietà resistenti con tecniche così innovative sotto i vent'anni. Ci vogliono almeno vent'anni per arrivare a avere, direi, un utilizzo concreto, pratico di queste varietà nella nostra viticoltura. Dice che le nuove herramienti di edizione genetica basate nel CRISP, eccetera, che sono molto prometedoras, però che requereranno almeno unos 20 anni per che si possa implementare a livello plattico, per tanto, che esplorare altre viaggi alternativi. Non possiamo intanto perdere tempo, dobbiamo per forza affidarci alle tecniche tradizionali, ma io vorrei così proporvi anche un'altra strada per migliorare la nostra capacità di resilienza al cambio climatica, quella dei porti innesti. I porti innesti sono stati degli strumenti formidabili per salvare la viticoltura quando è arrivata la filossera in Europa, sulla fine dell'Ottocento, primi del Novecento. Otra delle alternativi che propone è la creazione di nuovi porti innerti. Il porti innerti è un strumento basico per, diciamo, come strumento per resistire, per salvare il vigneto europeo quando arrivò la filossera nel secolo XIX a Europa. Però questa ricerca si è praticamente fermata dopo aver risolto il problema della filossera. Ma nel frattempo la nostra viticoltura, quella dei primi del Novecento, non è più la stessa. Tutto è cambiato. Sono cambiati i modi di coltivazione, i luoghi, ma i porti innesti non sono mai cambiati. Ecco, Milano nel 1985 ha iniziato questo progetto di breeding. Che praticamente nel porti innerti, dopo che arrivò la filossera, praticamente avevamo più di 100 anni senza grandi cambiamenti nella creazione di nuovi porti innerti. La viticoltura ha cambiato, lo sappiamo tutti, in questi ultimi 100 anni. E, in realtà, la Università di Milano ha stato il massimo referente, il suo direzione del Departamento di Viticoltura, nel 1985, il 1985 ha iniziato un nuovo programma, un nuovo progetto sulla creazione e generazione di nuovi porti innerti. Ecco, creare porti innesti è molto più complicato che creare varietà resistenti. I tempi sono molto più lunghi, sia per avere materiale da verificare, sia per avere materiale poi da moltiplicare. Dice che creare porti innerti è un tema molto più complicato che creare varietà di vici resistenti, che richiede moltissimo lavoro e moltissimo tempo. Un altro problema era quello di disporre in Europa, purtroppo, di poca variabilità elettica. Noi abbiamo utilizzato questa tecnica del incrocio ricorrente sui berlandieri. Dice che, per la grazia, in Europa avevamo poca biodiversità nel tema dei porti innerti e hanno utilizzato il cruzamento recurrente sui vitis berlandieri. Abbiamo solo tre tipi di berlandieri, la Resigné, la Portas e un altro, la Resigné numero due, le quali però sono inadatte a ottenere porti innesti per la resistenza alla siccità. Vanno bene per il caricare, ma non per la siccità. Dice che erano perdite i berlandieri, però i berlandieri, diciamo, che avevano tre biotipi, hanno perdito tre biotipi, che sono, soprattutto, tolleranti, come lo sape, alla calizza, però non alla sicchia. Allora abbiamo compiuto una spedizione, una spedizione botanica, in alcuni stati americani, Nevada, Nomo, Mexico, Arizona, e siamo andati nei luoghi dove, ai tempi della prima ricostruzione fioroserica, avevano raccolto il materiale per fare libri in Francia, il gruppo di Valà, e abbiamo trovato delle viti che vivono in condizioni di estrema siccità, e abbiamo portato di queste viti i semi in Italia, e le abbiamo utilizzate per fare i nostri porti innesti. berlandieri, sì. Si, che hanno realizzato una spedizione scientifica a Estados Unidos, dove stava l'origine della vitis berlandieri, dove i francesi fero, diciamo, a importare questi biotipi, negli estados di Nevada, di Arizona, eccetera, e allì hanno trovato nuovi biotipi, che, diciamo, dove vivono in condizioni di estrema sequia, di estrema... Un altro tema che abbiamo affrontato è quello del sale. Un altro tema importante, di parare la resistenza alla salinità. Sarà un grande problema per molta viticoltura mediterranea, non solo italiana, ma anche spagnola. Abbiamo trovato delle viti lungo alcuni laghi salati dell'Arizona, adattissime a vivere in terreni salati. E anche questo materiale abbiamo portato il seme, i semi per poter fare... Abbiamo portato 100.000 semi, più o meno, e abbiamo adesso in questo momento 40.000 semenzali da valutare. La serie M, che voi vedete lì, è una serie precedente a questa. È stata ottenuta con due incroci di bec cross con la berlandieri. Cioè abbiamo preso di prostenenze tradizionali, tipo 420A, 1103 Paulsen, e 44-53, che ha sangue di cordifoglia, e abbiamo reincrociato per due cicli con la berlandieri, perché noi volevamo avere una quota molto alta di berlandieri all'interno di questi genotipi, che potessero però radicare bene. E abbiamo ottenuto questi quattro portinesti, l'M1, M2 e M3 e M4. La serie di portinesti del M1 e M4 procedono di questi retrocruzamenti entre i nuovi biotipi di bitis berlandieri con i portinesti tradizionali. Professore, dobbiamo finire. Se vuoi aggiungere qualcosa di più? Ah, posso andare avanti? Ho capito. Solo una cosa brevissima. Per la sicilità, io vi consiglio di usare l'M2 e M4. Questi sono i due portinesti che in Italia i moltissimi campi sperimentali che abbiamo dall'Alto Adige fino alla Sicilia hanno dato i migliori risultati risparmiando mediamente il 30-40% di acqua rispetto al testimone. Come suggerenza, propone l'M2 e il M4 che in los diferentes estudios, ensayos che ha analizzato desde il nord al sud d'Italia è capace di suponare un ahorro del 30-40% del uso del agua. Grazie. Un aplauso.